Con le ragazze fino ai 21, 22, zero. Io ho davvero pochissimi ricordi in cui vedo i miei genitori interagire in modo romantico. E quindi mi mancava tutta quella parte lì. Se non fosse stata per la mia popolarità, sicuramente avrei avuto meno occasioni. Ma non hai ancora avuto una storia d'amore duratura? Ci sono tante possibilità che mi vengono presentate spesso, però non credo ancora di essere pronto per quella roba lì.